A meno di clamorosi e in questo momento inimmaginabili colpi di scena sarà Mirko Cudini il nuovo tecnico del Foggia. La scelta è ormai ricaduta sull'ex allenatore di Campobasso e Fidelissandria. Toccherà lui forgiare il nuovo Foggia che, dovesse essere ancora Serie C, sarà un mix tra giovani ed elementi esperti. L'ufficialità arriverà nelle prossime ore e con l'ingaggio del tecnico comincerà a prendere forma anche il gruppo, destinato ad un'autentica rivoluzione. Già partiti di Pasquale e Peterman, rientrati alla base, tutti quei calciatori che erano a Foggia in prestito nel nuovo corso non dovrebbero rientrare nemmeno Vacca, Vutai e Beretta, ai quali il Foggia cercherà una sistemazione e in uscita ci sono anche Garattoni e Frigerio. Per il primo affare è in dirittura d'arrivo con la Triestina. Per il centrocampista la stessa Triestina si è fatta avanti, anche se il giocatore preferirebbe salire di categoria. Si tratta anche la cessione del centrocampista Auger alla Juve Stabia, quella stessa Juve Stabia che è interessata al terzino Viteritti già da tempo nel mirino del Foggia. Da valutare invece le posizioni di Schenetti e per Alta, altri pezzi pregiati dell'argenteria roscionera. Insomma la sensazione è che il Foggia sarà rivoltato come un calzino o giù di lì. In questo senso saranno importanti anche le direttive che intenderà dare la nuova guida tecnica. Cudini vuol dire cambio di modulo, sarà accantonato il 3-5-2 che ha caratterizzato gran parte della stagione appena conclusa. L'allenatore di Sant'Elpidio a mare predilige il 4-3-3 e attorno al nuovo sistema di gioco andrà rimodellato il Foggia che dovrebbe cominciare a lavorare tra la fine di luglio e i primi di agosto ad Assisi in Umbria, sede che sembra destinata ad ospitare il ritiro precampionato dei rossoneri.